ciao a tutti ragazzi e bentornati su pepevacca collectibles con un nuovo unboxing oggi il turno di sasuke uchiha della trizero un'altra doll in scala 1 a 6 che va ad implementare la mia collezione dedicata a naruto in particolar modo quella della prima serie dell'anime abbiamo già visto in un video dedicato il naruto della trizero che non ha per niente dell'uso le aspettative vediamo se questo sasuke sarà all'altezza il box art è molto simile a quanto già visto con naruto molto piccolo dalle dimensioni tali da contenere la doll e pochi accessori al suo interno con un front molto artistico raffigurante sasuke durante l'utilizzo del chidori su uno sfondo di colore blu notte molto rappresentativo per il personaggio nella parte inferiore del front l'immancabile logo di naruto su uno sfondo blu elettrico con un motivo che ricorda molto le onde giapponesi che troviamo in molte rappresentazioni artistiche il vetro della scatola presenta il solito riepilogo del contenuto con la doll e qualcuno degli accessori che troviamo al suo interno il box può essere aperto al libro per rivelare sulla sinistra l'ennesima anteprima della doll con la scritta sasuke uchiha in verticale mentre sulla destra una finestrella che permette di vederne all'interno dove vediamo appunto la doll e i suoi accessori all'interno del blister non ci resta adesso come al solito che rivelano il contenuto iniziando proprio dagli accessori la lista di accessori è davvero molto breve abbiamo due volti intercambiabili qualche paio di mani l'effetto chidori due kunai e il fuma shuriken i volti intercambiabili sono due tre incluso quello montato sulla doll e rappresentano in tutto e per tutto in modo fedele il sasuke dell'anime che tutti conosciamo a partire dalla colorazione della pelle molto chiara fino alla resa dello sharingan che viene verniciato alla perfezione senza alcuna sbaratura l'unica pecca secondo me è la mancanza di un minimo di profondità in questi occhi che sembrano davvero stampati sulla sul volto buone invece le espressioni in questo caso il sorriso appena accennato di sasuke in segno di sfida e qui invece un'espressione un po più impegnata durante l'utilizzo di una tecnica o comunque in combattimento per quanto riguarda le mani ne abbiamo diverse paia queste vengono utilizzate per l'impugnatura dei kunai mentre le altre sono per diversi tipi di tecniche ad esempio questa per l'utilizzo del chidori e queste invece sia come ingaggio al combattimento shinobi e questa invece una mano aperta per appunto l'utilizzo di qualche tecnica altre mani speciali sono questa per l'impugnatura del fuma shuriken che vedremo fra poco e queste invece sono le due mani giunte che come vedete hanno la possibilità di essere inserita in entrambe le braccia tramite peg che vanno a formare il sigillo del serpente anche questo per l'utilizzo di qualche tecnica per quanto riguarda i kunai sono praticamente identici a quelli che abbiamo visto in naruto ovviamente non sono in metallo ma sono in plastica senza alcun segno di usura abbastanza buona la texture dell'impugnatura verniciata abbastanza bene e anche al tatto abbastanza realistica per quanto riguarda invece il fuma shuriken è molto grande questo vi ricordo che è la tecnica utilizzata da sasuke per la prima volta durante il combattimento con zabusa anche questo in plastica non è in metallo le punte sono abbastanza appuntite ovviamente non c'è filo e anche qui vi è la completa assenza di segni di usura o comunque di realismo per quanto riguarda la resa del metallo questa è la mano come vi dicevo che viene utilizzata per l'impugnatura adesso non la farò però questa più o meno è la resa finale con la mano inserita per quanto riguarda l'ultimo accessorio che è l'effetto cidori viene reso abbastanza bene e la colorazione è abbastanza buona ci sono sfumature di blu tendente all'azzurro con qualche punta di bianco e molto appuntite le parti finali di questo cidori e nella parte interna vi è una sorta di piano d'invito per andare poi a inserire la mano facendola scorrere in questo modo per farla rimanere in posizione e quindi poi andrà montata sulla doll per dare appunto l'effetto del caricamento del cidori da parte di sasuke passiamo adesso all'analisi della doll a partire dalla testa con questa che è la terza ed ultima espressione di questi volti intercambiabili di sasuke un'espressione molto più cupa e misteriosa come giustamente si confà al personaggio in questione occhi privi di sharingan in questo caso ma ritorna sempre quella sensazione di piattezza e di disegno stampato sul volto che secondo me avrebbe meritato qualcosina in più a livello di dettaglio così come lo sculpt di questi capelli molto buona la forma molto rappresentativa di quello che è il personaggio ma questa suddivisione così netta tra la parte posteriore e anteriore secondo me è molto sgradevole alla vista buona invece la realizzazione del coprifronte con la verniciatura color metallo e il simbolo di konoha andando più verso il basso troviamo l'abbigliamento la maglietta classica blu di sasuke con il colletto che è cablato quindi fil di ferro all'interno per poterne modificare la forma a nostro piacimento una cura del dettaglio molto buona questa non è da sottovalutare così come questa piccola chicca ovvero la presenza del segno maledetto disegnato stampato sul corpo sul collo di sasuke andando verso il basso troviamo sulle braccia questa sorta di para di copri avambracci che volendo possono essere sfilati andando a rimuovere le mani sulle articolazioni ovviamente ne parleremo fra poco perché ho qualcosina da dire andando invece verso il basso i pantaloncini di questo bianco grigiastro e le borse entrambe sia questa sul retro sia questa sul cosciale insomma per portare i kunai di plastica dura e impossibili da aprire ovviamente sono un unico pezzo andando ancora più verso il basso abbiamo il copri tibie come fosse o delle fasciature anch'essi molto ben realizzati e le classiche scarpe classici sandali che abbiamo visto anche in naruto adesso vediamo un pochino le articolazioni a partire dalla testa che può ruotare ovviamente sul su tutti gli assi a 360 gradi anche verso l'alto e verso il basso in questo modo mobilità delle braccia permette di ruotare anch'esse di 360 gradi ma non lo farò per non stressare troppo le articolazioni e gomiti con la double joint che possiamo vedere in tutti i sensi perché questa cosa secondo me la parte peggiore della doll queste articolazioni così visibili che sembrano veramente dei giocattolini di fascia molto bassa ovviamente la doll deve essere articolata ma queste articolazioni la scelta di questo stile di articolazioni a me non piace ragazzi per niente così come appunto quelle delle ginocchia come si può notare che in pose diciamo un po più estreme sembra veramente di avere in mano un giocattolino come ho già ho detto per esempio per le sage figures di naruto purtroppo questo è un brutto difetto secondo me per quanto riguarda l'estetica che in una doll 1 a 6 sarebbe potuta essere resa molto meglio guardate anche nella parte posteriore come sono visibili queste articolazioni sono davvero molto brutte dal punto di vista estetico una cosa che avevo dimenticato di dire prima ovviamente il simbolo del ventaglio del clan ucia molto ben riportato ed è quello che sembra essere una sorta di adesivo ovviamente non è cucito sulla maglietta per quanto riguarda articolazioni del busto può essere ruotato in più o meno 180 gradi su quest'asse può essere piegato in avanti e indietro le gambe anche qui vengono limitate solo nella parte posteriore dalla presenza del del sedere insomma e per quanto riguarda le caviglie i piedi possono essere ruotati a 360 gradi mobilità anche del collo del piede in su e in giù ma sempre punta del piede che non può essere articolata ecco l'immancabile confronto con gli altri personaggi del brand abbiamo un haruto della 3 0 che è leggermente più basso rispetto a sasuke e poi il fratello itachi rocket toys e kakashi questo scaffale di naruto diventa sempre più bello e più pieno di personaggi rispetto a sasuke e poi eccomi di nuovo qui per la conclusione del video e per il mio verdetto finale su questo sasuke uchiha della 3 0 il mio voto è un 7,5 anche molto risicato vi spiego subito perché la doll in realtà è molto valida rispetto alla fascia di prezzo stiamo parlando di una scala 1 a 6 con un prezzo medio basso che ovviamente adesso siccome è diventata quasi introvabile è aumentato ma per il suo prezzo originale di all'incirca 180 euro rimane comunque una doll molto valida c'è una cura del dettaglio per alcune parti come ad esempio alcuni accessori sebbene una grave mancanza è quella sempre della basetta così come per naruto sempre della 3 0 la presenza del segno maledetto sul collo e altri piccoli dettagli che comunque la valorizzano tanto ciò che abbatte tantissimo la validità di questo sasuke è la presenza di queste articolazioni articolazioni che sono molto funzionali e molto valide appunto dal punto di vista della mobilità della posabilità questo sasuke può essere posato davvero in tantissime pose differenti però sono davvero ragazzi antiestetiche non c'è nessun tentativo da parte della 3 0 di nasconderle o comunque di migliorarle alla vista e sono effettivamente molto visibili se guardiamo la figure soprattutto dalla parte del back, dalla parte posteriore sono davvero inguardabili e si può paragonare questo sasuke a un giocattolo veramente di fascia medio-bassa questo è il mio parere quantomeno quindi tutto il resto ottimo avrei gradito un maggior dettaglio nella faccia, nel viso e negli occhi per rendere il tutto un po' più realistico, un po' più vivo e anche per quanto riguarda il dettaglio delle labbra che sono veramente poco visibili già la carnagione di sasuke è molto chiara più le labbra, soprattutto ad esempio con questo volto, sono davvero poco visibili per tutto il resto comunque ragazzi rimane una doll valida e un'ottima aggiunta alla collezione Naruto, sempre della 3 0, secondo me è parecchio superiore probabilmente questa superiorità è data dal fatto che Naruto abbia una tuta con maniche lunghe sia per i pantaloni che per la giacca e quindi queste giunzioni, queste articolazioni non sono visibili ho avuto anche qualche problemino per quanto riguarda i peg si è rotto uno quando ho cambiato la mano nonostante la delicatezza che sapete mi contraddistingue nel trattare le mie doll però è quello che è insomma detto questo ragazzi mi sono dilungato anche troppo vi chiedo scusa vi ricordo che l'ho acquistato dal Colosso dei Nerd che è riuscito miracolosamente a recuperarmi in una copia quindi lo ringrazio ancora una volta fatemi sapere voi che cosa pensate sia della doll che del video se c'è qualcosa da cambiare preferireste che facessi qualcosa di diverso da quello che faccio fatemelo sapere e ci vediamo come sempre ragazzi a un prossimo video ciao ragazzi a presto ciao 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 ciao